Hanno puntato alla pistola contro una bambina di 5 anni per costringere la mamma ad aprire la cassa del supermercato nel quartiere San Paolo di Bari. La rapina risale al 18 aprile scorso. Il ragazzo di 14 anni che faceva da palo ai due piccoli malviventi è stato arrestato dalla polizia. Bottino della rapina 1.300 euro. Dopo l'arresto del ragazzo, accusato di rapina aggravata e sequestro di persone in concorso, un altro giovanissimo, suo cugino di 15 anni, si è costituito alla polizia autoaccusandosi della rapina al supermercato compiuta il 18 aprile scorso e di altre rapine compiute il 30 maggio nel giro di poche ore. Il giovane è stato denunciato.